L'ILT Padova è la sezione provinciale della Lega Italiana per la lotta contro i tumori che su Padova da oltre 40 anni si occupa di prevenzione oncologica. Grazie a Pink Run sosterremo un progetto molto importante a cui ci teniamo molto e di questo ce ne parlerà la dottoressa Stefania Zovato. Grazie a L'ILT e grazie a Pink Run noi abbiamo ora la possibilità di seguire un progetto che riguarda le donne giovani. Possiamo quindi seguirle al meglio, dare un percorso di sorveglianza e il tutto basato sulla storia familiare e sulla loro possibilità di avere altri rischi ambientali. Tutto questo è veramente un'opportunità unica che, ripeto, grazie a Pink Run e all'associazione L'ILT noi abbiamo la possibilità di seguire. Vi aspettiamo tutte il Prato della Valle l'11-12 maggio. Mi raccomando, tutte presenti! Ciao! Grazie a tutti!